Individuati dai carabinieri gli autori di una serie di furti in edifici scolastici di Montale in provincia di Pistoia. Si tratta di un ventenne di origine albanese domiciliato a Pistoia e due suoi coetanei, un ragazzo e una ragazza, entrambi italiani. Per l'albanese è scattato l'arresto per evasione e la denuncia per furto continuato ed aggravato in concorso con gli altri due complici. L'attività investigativa condotta dalla stazione di Montale, il comandante che ha dato una brillante prova di accumulo investigativo con tutti i suoi carabinieri, ha portato alla denuncia di questi tre giovani tra i 20 e i 21 anni che hanno perpetrato sei furti in Montale ai danni di plessi scolastici, anche della misericordia e di un circolo di tennis. I carabinieri sono risaliti ai presunti autori dei furti grazie alle immagini di alcune telecamere installate in prossimità degli edifici colpiti dai raid. Il controllo che ha consentito l'arresto di uno di questi che era evasso agli arresti domiciliari e la denuncia di questi due giovani per i furti ha consentito di recuperare numerosa furtiva perché a seguito della perquisizione domiciliare sono stati trovati sia il provento dei furti e anche materiali atti allo scasso.